Ciao a tutti ragazzi mi chiamo Nicola Bianchi e questo è il mio canale di filmmaking e fotografia e oggi ti racconto come ho girato questo editoriale fashion Questa è una piccola preview ma spoiler rimani fino alla fine perché ti farò ovviamente vedere anche il video completo Sono stato invitato su questo set Marco Noffri che era il fotografo che scattava l'editoriale che è anche il fotografo che aveva pensato al concept Per me l'editoriale è stato il prodotto che mi ha avvicinato di più alla moda perché trovavo molto fascino nel riuscire a raccontare una storia in 4-5 scatti o in un video Una cosa fondamentale per l'editoriale è il concept perché senza concept non riusciamo a costruire uno storytelling interessante Per me la parola editoriale significa dinamico Come ho girato questo editoriale che ti ho fatto vedere? Bene ho usato come al solito le mie Sony Alpha 7 IV Nello specifico sapevo che avrei dovuto girare in fretta quindi ho lasciato una Sony alla mia assistente con un 24-105 F4 e io ho tenuto sul gimbal l'altra Alpha 7 IV con il 24-70 F2-8 G Master II Per me nel momento in cui si gira un editoriale è fondamentale avere un gimbal Mentre per altri tipi di video non è così importante l'editoriale è molto dinamico e riuscire a raccontare tanti outfit spesso in un contesto simile tenendo interessante il video mi rimane molto difficile se non posso muovermi avvicinamenti, allontanamenti e riprese d'arco Queste sono i tre tipi di riprese che vedrete di più nel video e sono quelle che ci aiutano di più a tenere alto il ritmo mentre raccontiamo velocemente questa storia Il concept di questo editoriale era Eros and Thanatos che era un po' anche il titolo dell'editoriale quindi questo connubio tra amore e odio o vita e morte e secondo me i talent erano perfetti per queste parti e soprattutto ha lavorato benissimo anche la makeup artist con l'hair stylist perché veramente i look erano sempre incredibili Per me il video doveva essere estremamente dinamico perché rispecchia molto sia la fotografia di Marco anche il mio modo di fare video ma soprattutto era perfetto per il concept perché avremmo avuto queste due talent che avrebbero interagito tra loro molto avevamo pensato varie scene ad esempio quella delle rose che secondo me è una di quelle più forti in cui era importante raccontare dinamicità e movimento anche per enfatizzare l'interazione che c'era tra le due modelle Alla fine in fase di editing ho cercato una traccia che avesse molta energia e la maggior parte del footage che ho selezionato è quello del gimbal c'è veramente pochissima mano libera e quando c'è è veramente molto molto ferma e spesso stabilizzata in post Ma ora dopo tutte queste belle parole spese è ora di vedere il video Pronti? Fammi sapere nei commenti cosa ti è piaciuto cosa ti è piaciuto meno e magari cosa avresti fatto tu di diverso o cosa ti sarebbe piaciuto vedere che non hai visto e se questo video ti è piaciuto ricordati di lasciare un like iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi così avrai la certezza di non perderti nessuno dei prossimi video e spoiler prometto che nelle prossime settimane ne usciranno tantissimi ma soprattutto come sempre ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti